Io sono senza parole Scusa Maria ma c'è qualcuna per lui? Sta scendendo una donna per lui? No E come mai sei messo al centro studio? Dove vai? Viaggio ma che stai facendo? No adesso Eh capisci? No non ci posso credere Ha rimeso la sua postazione Ma hai la faccia come il Devo dire Non è impossibile Ma se sono entrato perché è uscita Carla Se sono entrato Mamma mia Viaggio io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti Davvero Ma proprio zero Però ti avranno detto io e Gianni una cosa E ti ripeto non ho nessuna antipatia nei tuoi confronti Penso anche che questa trasmissione regga con te Senza di te Fino a che a casa la guardano E c'eravamo detti Gianni ti aveva detto delle cose Io gli avevo detto Hai ragione Gianni Che si fa? Poi tu mi hai detto me ne vado io Io non ho battuto ciglio Perché per me è uguale Come quando ti lascio io Non ti ho lasciato prima io In un certo momento Mi sono sentito quasi pressato No ma io ti avevo già detto di accomodarti Grazie a tutti Grazie a tutti